Una partita durata quasi tre ore, una battaglia alla fine, vince Verona il tie-break. Sì, sicuramente una partita così come ce l'aspettavamo, siamo due squadre simili che abbiamo lottato fino alla fine, credo che i primi due set noi abbiamo sprecato un po', abbiamo toccato tantissimi palloni che poi non siamo riusciti a chiudere, però comunque siamo stati bravi a rientrare in partita, a non molare, ad andare al tie-break e comunque la partita si è decisa in due punti al tie-break e loro sono stati un po' più bravi di noi a gestire certe situazioni. Avete comunque dimostrato di essere una grande squadra, probabilmente la sorpresa di questo inizio di stagione. Sì, per essere una grande squadra ancora ci manca molto, credo che abbiamo dimostrato di essere all'altezza, credo che abbiamo sorpreso a più di uno, ma a me personalmente no, perché so che dei giocatori che abbiamo credo che siamo una squadra molto molto competitiva, che sicuramente può dire la sua in questo campionato. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora e anche il punto di oggi a noi serve tanto. Ringraziamo Orduna e facciamolo in bocca al lupo per i prossimi incontri. Epico!